Adesso rifaccio la catena di voli così come me la propone qui il libro del gioco Così vediamo di trovare tutte le ultime due sorelle che rimangono Allora torniamo qui dentro subito, stiamo guardando a Bucerva E vediamo di vedere se c'è il famoso tizio maledetto No, giustamente perché questa rotta qui l'abbiamo già fatta E quindi non si fa Allora andiamo facciamo volta per Balfonheim adesso In teoria non dovrebbe esserci ancora andata da qui Balfonheim, Balfonheim, Balfonheim Partiamo subito così come Arriva che andiamo super veloci per queste ultime due sorelle Allora, oh vedi Vedi c'è Ricker che ha rispito una maniera diversa Allora, oh l'altra delle sette sorelle signorina Io sono l'ina alla sesto genita, come un'etra da Anna? Ora che ci penso quando ho iniziato questo lavoro? Mamma mi aveva mangiato tutti i fiori Sì, è una buona idea Ma mi dispiace per tutta la fatica che ho dovuto fare Ha già preso sei aeronardi Fortunatamente ne manca solo una L'ultima sorella la troverà su una linea che non ha ancora usato Non l'avrei mai detto signora? Io voglio parlare su se per questo lì che non ce la faccio Allora, l'ultima linea è O Barfone e Macadish O Barfone e Nalbina Penso Barfone e Nalbina Perché Nalbina è proprio in tramezzo E forse è da qui che ci arriva Vediamo, vediamo, vediamo Vediamo, adesso lo scopriremo Ora lo scopriremo Ora lo scopriremo Allora Andiamo a Nalbina E speriamo che la fortuna ce la mangi buona Ok, sì, sì, sì Dovremmo esserci Fa che sia l'ultima Ti prego, fa che sia la settima genita Come si pronuncia No, ci sono già passata Di Kofi E allora facciamo Nalbina Alcadish Una Bina No, la Bina Allora La Bina l'ho fatta già Questa l'ho fatta Questa l'ho fatta Questa l'ho appena fatta Facciamo Nalbina Alcadish Vediamo cosa succede Ragazzi perché non mi ricordo più I passaggi che ho fatto C'è questo problema di fondo E allora andiamo ad Arcade L'ultima linea Forse, forse Speriamo L'ultima linea Che ci rimane Speriamo Gli ladri Siete dei ladri Siete dei ladri Qui ci va avanti Più solamente Le venti ripersi No, la Bina Sono dei ladri Ragazzi Siete appena Sì, sì Lo sappiamo Che sei Sulle Come minimo Capite comunque Che il nome Che dice Al microfono Non risponde Assolutamente A quello che Oh Questa vorrebbe essere La settima sorellina Una lettera Se io sono Lisetta La sorella minore Una lettera Da Anna Davvero? Oh Finalmente Un mazzo di fiori Che bello Lo preparerò Senz'altro Se lei è in contatto Dei miei sei sorelle Significa che Ha avvezzato Su tutte le sette linee Su tutte le sette linee Alivellis Porca miseria Ce l'ha fatta Questo Damian Ce l'ha fatta? Damian Cosa vuoi dire? Era un gioco Per decidere Se avreste troncati I rapporti Con vostra amata Se avreste sposati O se noi fratelli Avremmo dovuto Desistere Mio fratello Rende scelto Il tipo Che gli sembrava Meno abituato A viaggiare Convinto di vincere La scommessa Cosa? Una scommessa? Ma non vi vergognate? Allora Riferisci subito A te fratelli Il risultato Maledizione Sono notificata Per tutte le stupere Le cattole Ma la ringrazio Tanto per quello Che ha fatto per noi Questo è un piccolo Odolo per lei Una vera Yoyoma Anche quest'anno Mia madre Passa Un complesso felice E se i poveri Occhi non contano Noi siamo Una famiglia unita Finalmente Abbiamo completato Questa misura Delle sorelle Capo caribere Qui mi dice Che la vera Yoyoma È Un'utilizzo Ma ci sono In grado di Azzare I tuoi parametri Di difesa Magica e fisica Oltre a conferire A portatore L'effetto Rigene Bello Allora di modo A questo punto Il gioco Possi No Vabbè Qui mi dice Che Mi pensi Come questa L'amera Tra l'altro Inizio Il gioco Io non sapevo Io non avevo Sblocato Tutte le linee Aeree E quindi Va bene Ragazzi Dopo aver finito Anche questo Mi successe Secondare Vado un attimo Avanti Con Il libro Vedendo Se ci esce Qualche missione Secondare No Ma a quanto pare Mi sa Che comunque Dovremmo Alternare Mi sono Di ricercate Quelle Super Ricercati Per cui Ragazzi La passata Faremo Le missioni Dei Super Ricercati Che Teoricamente Dovrebbero Essersi Sbloccati Ok Ragazzi Vi Oggi Questa Di Che Si Posso Concondere Qui Oggi Abbiamo Fatto Un Be Po Di Cose Se Vi 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 Anche Un Quarto Del Totale Le missioni Secondari Su Questo Gioco Quindi Preparate Che Poi Pensano Pare Chiroti Su Per Scriverai Quella Ragazzi